Resterà in carcere a Bellizzi in attesa del processo. Il giudice per le indagini preliminari rotondi conferma le richieste del PM Galdo. Per il 49enne, autore dell'attentato di venerdì scorso a Palazzo Vescovile, è stata convalidata la restrizione in cella. L'uomo, assistito dai legali Pizze e Darchi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Danneggiamento e lesioni colpose. I capi di imputazione a suo carico, dopo che nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi di accusi ancora più gravi sulla scorta delle relazioni di scientifica e vigili del fuoco. Gli inquirenti hanno ricostruito nel dettaglio la dinamica dei fatti. L'uomo avrebbe preso a spallate il portone del Vescovado prima di piazzare la scatola a terra, provando a dar fuoco con un mozzicone di sigaretta. Non riuscito nell'intento ha piccato le fiamme con un accendino. Pare che avesse avuto di verbi nel pomeriggio con un prete e con un assistente della Caritas diocesana. Da qui la decisione del grave gesto. Nelle immagini della videosorveglianza del Vescovado si notano gli interventi del passante che con un calcio prova a spazzare via la scatola con fumo e fiamme, ma viene investito dal boato di fuoco. La misura del carcere per il 49enne è dovuta anche ad altri precedenti. Non è escluso invece che nell'ambito del processo possano emergere in un quadro di disagio e disperazione richieste relative al trasferimento presso una comunità d'accoglienza e recupero. In attesa della giustizia dall'Avescovo Aiello per l'uomo è già arrivato il perdono.